Questo incontro è stato utile e in che termini? Sì, sicuramente la conoscenza più profonda di uno studio di architettura così grande come Gensler è sempre un'opportunità importante. Come ho detto durante la manifestazione la comunicazione è essenziale per poter garantire che un nostro prodotto o un prodotto in generale venga mantenuto sulla specifica di un progetto fino alla fine e avere comunicazione con uno studio piccolo di architettura è molto facile e quando si tratta di Gensler con 2.500 dipendenti in tutto il mondo diventa un pochettino più complicato. Quindi benvengano questi momenti di collaborazione, di apertura e di comunicazione. Quanto è importante e quanto ci crediamo? Lo dimostra il fatto che l'Uceplan è negli Stati Uniti con una propria struttura dal 1994. Quindi abbiamo creduto in questo mercato, siamo lì, siamo presenti con grossi investimenti, con un'azienda, con uno showroom e che tante volte sono grossi sacrifici che un'azienda deve fare ma per aggredire un mercato come gli Stati Uniti non ci sono alternative. Quanto è importante il supporto di una federlegno di un'associazione? Molto, molto e qui vorrei pungolare un po' tutte le nostre autorità e il nostro governo che sicuramente noi dobbiamo avere più supporto dalle istituzioni perché tante volte ci scontriamo con altri paesi che hanno un grosso supporto. Non vorrei essere polemico ma direi che questo va detto. Quindi benvenga un supporto coordinato con i responsabili locali perché sono quelli che conoscono la realtà vera del mercato. Quindi ogni investimento che si va a fare in un paese straniero deve essere coordinato con chi vive quotidianamente quella realtà. Non si può decidere dall'Europa strategie che poi non sono applicabili in un mercato così lontano. Quali sono i vostri prodotti che piacciono il più nel mercato americano? Il prodotto italiano, il prodotto di design piace, piace molto. Il mercato americano è un mercato ancora giovane per quanto riguarda l'apprezzamento del design. Togliamo New York perché New York non è l'America e l'America non è New York. Ma se appena si va fuori da un mercato come New York ci si rende conto come solo ci sia un apprezzamento per il design ancora giovane da conquistare. Quindi i prodotti italiani sono sicuramente molto interessanti per il mercato. Per le persone che comprendono il design bisogna fare in modo che il numero di persone che comprendono il design cresca. Grazie. 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 Grazie.